ok questa è la famosa lombard street dove tutti vengono a fare questo giro di tornanti uno dietro l'altro non so se si riesce a vedere incredibile così non dice niente ma da l'ambasso ok così lo vedete è una serie di tornanti con tutti i giardini fantastico altro tornante giallo che guida